Salve a tutti, sono con Simone Napoli, vincitore della categoria 46 kg, come è andato? Un po' bene. Un po' bene? Hai vinto, insomma, non sei contento? Contentissimo. Raccontaci di te cosa fai, quanti anni hai. E' il lavoro sempre. In bocca al lupo noi concludiamo l'intervista dicendo Italia Judo, l'Italia Judo.